Ciao, sono Gennaro Porcelli, ho scritto il brano Nannè. Nannè in napoletano vuol dire bambina. L'ho scritto pensando ad una donna anziana, rimasta sola in questo brutto periodo, non potendo vedere i suoi cari e abbracciarli. La speranza è quella di sognare ancora, sognare magari a quando era bambina. Con me ha suonato la batteria Maura De Santis, ho suonato le chitarre e ho cantato. Ciao!